telegarda trentino trasmette dal monte brione sul canale 8 85 se non la ricevi bene puoi contattare i nostri tecnici convenzionati il sopralluogo la consulenza sono gratuiti e potrai beneficiare di uno sconto del 20 per cento sul lavoro di modifica o installazione di nuovi apparati chiama subito gli antennisti convenzionati ad arco torboli david inviana nas 14 con telefono 0 4 6 4 5 1 6 7 6 8 arriva del garda tv center inviardaro 1 con telefono 0 4 6 4 5 5 4 5 2 0 oppure rts service in via segantini alla rione dei gasperi con telefono 0 4 6 4 5 5 2 4 0 8 telegarda trentino sei tu